e così come con i nostri clienti pazienti non è noi non siamo per fare che il paziente stia bene non è importante che stia bene o che stia male ovviamente quale la ciliegina sulla torta l'effetto collaterale ma quello che conta è che tu compi il processo che devi compiere verso te stessa quindi era meglio che non chiudevano le palestre che tu potessi lavorare eccetera forse sì o forse no cioè questo non ha importanza questa domanda sono qui cogliere la sacralità di questo essere qui cogliere sacralità cioè sacro è anche mistero non lo so bene se ci sia un intelligenza superiore che me lo chiede ma so che l'atteggiamento giusto è quello di cogliere questo momento come sacro e di fare i passaggi che devo fare per rispondere in modo migliore le visioni e senza quello che succede dentro seguirlo e comprare il percorso cioè deve essere il rifugio famoso è questo benedetto se il rifugio famoso e questo senso sentito di essere lungo il cammino il viaggio dell'eroe insomma di non seguire le tentazioni e nemmeno per questo che a un certo punto del viaggio come abbiamo detto seguire il voglio farti stare bene diventano andare via perché potrebbe essere che tu devi passare attraverso il malessere per arrivare a te stessa quindi si rinuncia a questa idea di c'è pensate a quanto è in questa ottica fuori luogo l'idea di diagnosi e di cura nel senso stretto del termine c'è una qualche forma c'è uno stato d'ansia un attacco di pane delle pressioni che devo far passare io che sono il terapeuta c'è questa è è assolutamente inconcepibile o meglio è trascesa inclusa perché ovvio che io alla fine se tu starai peggio di quando sei arrivato di cosa che non va però il mio intento è allearmi al tuo processo non è fatti stare bene non ho progetti per te e non mi faccio spostare da sì questa volta è uscito che era contento mi ha detto che sta bene questa volta non è questo non è io posso stare al cospetto del tuo malessere vedere se io in più uno sguardo archetipico per esempio il viaggio dell'eroe se tu sei viaggio dell'eroe sono nella foresta o il drago della chiusa in casa poco lavoro o niente lavoro il drago e allora io mi preoccupo che non stai bene non mi proprio che stai affrontando il drago e semmai di dare gli strumenti per sconfiggere il drago perché so che dopo il drago c'è la torre con il principe azzurro da liberare e allora dov'è il problema così come come se tu fossi nella notte oscura e dov'è il problema come fa a venire l'alba se non c'è la notte oscura via di seguito no io semmai favorisco che tu sia totalmente nella notte oscura con tutti i tuoi corpi con tutto il tuo essere in modo più integrale totale possibile nella notte oscura che tu ti disperi che tu non è che voglio che tu ti disperi ma se devi passata la sua disperazione vivila in tutti i corpi in ogni cellula perché la trasformazione avviene quando tu quando una forma diventa un'altra ma in tutti i corpi non solo in uno